Per Donald Trump, Bernie Sanders ha fatto un patto col diavolo, sostenendo la candidatura di Hillary Clinton, perché lei è il diavolo. Il candidato repubblicano alla Casa Bianca si è espresso in questi termini in Pensilvania, mentre poche ore prima, nell'Ohio, aveva detto di temere che le elezioni siano truccate. Intanto Hillary Clinton incassa l'appoggio di Warren Buffett, apparso a suo fianco in Nebraska. Il miliardario ha sfidato Trump a rendere nota la propria dichiarazione dei redditi, dicendosi disponibili a fare altrettanto. La ex first lady ha rincarato la dose. Vorremmo vedere quelle dichiarazioni dei redditi, vero? Lui non rispetta il popolo americano abbastanza per fare ciò che ogni altro candidato alla presidenza ha fatto da decenni, pubblicando le proprie dichiarazioni. È ora che Trump smetta di nascondersi. Domenica la ex responsabile della diplomazia statunitense aveva chiesto agli elettori repubblicani di fare l'interesse del paese anziché quello del partito. Ora i sondaggi le attribuiscono un ampio vantaggio.